Due minuti per una nuova era sociale, programma a cura della Rea, radio televisioni europee associate e del circuito Lecento Radio, conduce Rainero Schembri. Rea Social Per Giovanni De Mauro, direttore della prestigiosa rivista internazionale, in un mondo dominato dai giganti digitali, la raccolta pubblicitaria è diventata un problema enorme. Non solo le radio e le televisioni locali rischiano di scomparire, ma anche la maggior parte del sistema informativo, compresi i grandi giornali e le più autorevoli riviste. Va detto che nel campo della comunicazione De Mauro vanta una grande esperienza. Dal 1993 la rivista internazionale pubblica articoli della stampa straniera, tradotti in lingua italiana. Ma torniamo alla spinosa questione della raccolta pubblicitaria. Ecco cosa De Mauro ha detto a Rea Social. Il tema della raccolta pubblicitaria è un tema fondamentale della distribuzione della grande rorta pubblicitaria, che riguarda tutto il sistema dell'informazione, non solo in Italia. Il tema fondamentale è perché sempre di più si va delineando una sorta di due grandi aziende tecnologiche statunitensi, che sono Google da una parte e Facebook dall'altra, che raccolgono più o meno l'80%, forse qualcosa di più, della torta pubblicitaria mondiale. Sono questioni colossali e che andrebbero affrontate a livello dell'Unione Europea, poi ci sta provando a contrastare questo strapotere delle grandi aziende tecnologiche, ma non riesce probabilmente fino in fondo o in maniera efficace o con strumenti adeguati. In quello che riguarda l'Italia c'è sempre stata chiaramente una sproporzione nella distribuzione della pubblicità a favore della televisione innanzitutto, anche a detrimento non solo delle altre televisioni, della televisione e di alcune reti televisioni in particolare, e cioè medias, le reti medias e le reti della RAI, per ragioni fondamentalmente politiche. Due minuti per una nuova era sociale di Rai Nero Schembri, programma a cura della REA, Radio Televisioni Europee Associate, e del circuito Leggento Radio. Ciao!